Io insegno al Conservatorio Arrigo Boito dal 2010 e mi occupo di canto pop rock e con i miei allievi facciamo un bellissimo lavoro di studio dei cantautori delle rivoluzioni del rock che hanno cambiato la musica e il mondo, il pensiero, hanno coinvolto anche i giovani nella politica e poi studiamo Beatles Rolling Stones ma insieme a tutto questo mettiamo insieme un sacco di ricerca e di lavoro sulla musica etnica e su tanto altro che c'è da studiare. L'importante sono le loro personalità e il repertorio perché loro devono sicuramente essere persone colte che sanno di musica il più possibile. Mettiamo insieme anche dei bellissimi progetti proprio questa settimana abbiamo portato alle scuole di Parma un racconto di Giorgio Gaber della sua vita, della sua musica, del teatro canzone, c'è stata anche la presenza del maestro Luigi Campoccia, il suo storico pianista. Si fanno tante cose in questo conservatorio, si vive di musica, ci si vuole bene e si vive insieme, si suona tanto. Anche io è un'idea che si fa strada a poco a poco, nel bambino suona dolce come un eco, è una spentata per tentare per i miei passi. a poco a poco, nel bambino suon'intima certezza di se stessi, la parola di Dio.